Ragazzi, indovinate un po' dove andrò stasera? In discoteca. Ebbene sì, forse non mi era bastata la scorsa settimana, infatti stasera io andrò e torniamo ad Alassio. Quindi prepariamoci insieme per la discoteca. Dovete sapere che tutte le volte che ho una serata vi chiedo sul canale Broadcast di aiutarmi a scegliere quale make-up realizzare. E tra questi tre che avevo selezionato, le mie amiche strette hanno scelto questo. Quindi facciamolo. Ho anche queste goccine qui di branca e elefante da provare per la prima volta, che in America non sono virali di più. Praticamente voi le mischiate al vostro fondotinta e li abbronzano. Vi giuro, non vedevo l'ora di provarle. Metto un po' di skin realist, ci aggiungiamo tipo una goccina e mezza. Mixo il tutto e vado a metterlo direttamente sul viso. La prossima volta ne aggiungiamo un po' di più, però devo dire che già così l'effetto mi piace. Andiamo adesso di contour e blush rosato. Un pochettino di correttore e passiamo finalmente agli occhi. Color burro su tutta la palpebra, poi prendo un color rosato e vado a sfumarlo nella palpebra. Ci mixo un pochettino di rosa più pop e dopo aver sfumato per bene insieme i due colori, con del correttore e un pennellino di precisione taglio la crisi. Adesso mettiamo su tutta la parte bianca uno shimmer, questo qui rosa. E visto che di luminosità non ne abbiamo abbastanza, andiamo anche con questi glitter di Nabla. Eyeliner nero a partire sin dall'inizio dell'occhio e mascara. Adesso labbra, stasera combo matte. Matita numero 41 di Astra ed Eclipse Nude di Nabla. Setting spray e passiamo all'outfit. Dovete sapere che quando sono venuta a Genova io non pensavo di andare in discoteca così tante volte, quindi non mi sono rimaste molte opzioni. Direi che andiamo con questo tubino molto semplice che avevo preso da Pull&Bear in Spagna quando mi hanno perso la valigia e non l'ho mai messo. Let's try. Ma vi dirò, non è nemmeno così male. Non è assolutamente nulla di wow, però not bad. Diamo un po' di colori con la mia bimba azzurra, però questa volta la mettiamo a spalla e non a tracolla. E poi nonostante abbia una terribile voglia di mettere i tacchi, non li metterò perché a discoteca in cui andremo è una spiaggia. Quindi, anzi, vi. Fatemi sapere che cosa ne pensate del look finale. Io vi aspetto assolutissimamente sui G.